Spara al fratello e poi scappa e quanto accaduto ieri sera a Sepino incontra da rede alto intorno alle 20 e 30. Alla base del folle gesto i confini dei terreni di famiglia. Michele Di Juorio, 70 anni, spara al fratello Biagio, 50, lo colpisce al volto e alla spalla. La discussione si anima, i toni diventano sempre più accesi e il litigio assume contorni violenti. A raccontare l'accaduto è lo stesso Michele e i carabinieri di Sepino coordinati dal comandante e il maresciallo Massimo Ciarmoli. Biagio ricoverato al Cardarelli è in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. Il settantenne invece è recluso nel carcere di Campobasso in attesa di interrogatorio di garanzia. Dovrà rispondere di tentato omicidio e detenzione illegale di arma da fuoco. I militari della stazione di Sepino hanno inviato ai rissi i bossolotti e la polvere da sparo recuperata sugli indumenti del settantenne. Le indagini condotte dal comandante Ciarmoli serviranno a scoprire perché il settantenne, nonostante la revoca del porto d'armi, si trovasse ancora in possesso di un fucile.